In lacrime vi abbraccio tutti! Così Gennaro San Giuliano si è congedato con un messaggio sulla chat dei ministri dopo aver rassegnato le proprie dimissioni. La Premier Meloni con una dichiarazione saluta San Giuliano. Ringrazio sinceramente Gennaro San Giuliano, una persona capace e un uomo onesto, per lo straordinario lavoro svolto finora, che ha permesso al governo italiano di conseguire importanti risultati di rilancio e valorizzazione del grande patrimonio culturale italiano, anche fuori dai confini nazionali. Ho preso atto delle dimissioni irrevocabili di San Giuliano e ho proposto al Presidente della Repubblica di nominare Alessandro Giuli, attualmente Presidente della Fondazione Max Cuno, nuovo Ministro della Cultura. Ecco l'audioshock di Maria Rosaria Boccia che ha fatto dimettere San Giuliano. Salve, buongiorno, parlo con il dottor Mazza? Sì. Salve, buongiorno. Io mi sono interfacciata con il suo collega Ferrari, Alessandro, che mi ha inviato una mail per la nomina di consigliere Grandi Eventi. Ah sì, buongiorno, parlo con la dottoressa Boccia? Sì, esatto. Salve, buongiorno. Ah, buongiorno dottoressa, salve. Sì, il collega in questi giorni non è in ufficio, però può chiedere sicuramente a me qualche informazione. Grazie, gentilissimo. Allora, io praticamente, le spiego, ho ricevuto la mail, tutto ok, poi ho firmato praticamente tutto quello che Giuli aveva bisogno, poi è arrivato il decreto, il ministro lo ha firmato, io ho rifirmato, esatto, ho rifirmato praticamente... E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e un commento. Grazie.